Ciao, sono Valda Brighton. Secondo recente sondaggio, il 35% degli uomini inglesi si masturba almeno una volta al giorno, il 67% lo fa guardando un film porno e il 51% immaginando una porn star. Per quanto riguarda le donne, il 92% di loro dichiara di masturbarsi, contro il 74% di un sondaggio del 1979 e il 62% invece lo dichiarava nel 1953. Il 22% di loro lo fa almeno una volta a settimana. Molto interessante come su internet si possono trovare siti dove ci si può scambiare opinioni e organizzare eventi per masturbarsi tutti insieme guardandosi in un'altro e scambiarsi foto e anche come trovare persone con cui masturbarsi guardandosi in chat. Su internet puoi trovare davvero di tutto. Se hai un hobby e vuoi trovare degli amici con cui proprietare il tuo hobby, vai su internet. Puoi anche aprire un gruppo volendo. Apri tu un gruppo e go. Per quanto riguarda invece la campagna No Page 3, se non hai ancora firmato la petizione e sei d'accordo sull'abolire le donne a sede nudo dalla pagina 3 del The Sun, vuoi rifirmare? Sei ancora lì? No, ovviamente non andare ora, ora continuo a seguire le mie amiche Raffaella e Angela perché sono fantastiche. Magari dopo il programma oppure se lo guardi insomma mentre fai altre cose. Però io direi darei tutta l'attenzione a Raffaella e Angela, però sì dai, magari vai a firmare dopo. Va bene, dai, vai a firmare dopo. Bene, però ricordatelo eh, ricordati Val. Fammi sapere che cosa ne pensi assolutamente perché penso che questa campagna sia molto molto interessante e anche in Italia può essere molto interessante questa campagna, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. E da Pagano è tutto, un saluto e a presto!